La scelta di due professionisti che mettono a servizio della città il loro amore per Palermo, ma anche la loro professionalità e la garanzia migliore rispetto a tentativi di frattumazione, di rissa, di contrasti. Io vado avanti con i consigli comunali che hanno confermato la coerenza rispetto all'elezione del 2017 e lo faccio nell'interesse della città, richiamando tutte le proprie responsabilità. Io non farò mancare il mio sostegno, sono convinto che la città vorrà sostenere questo sforzo di superare momenti di difficoltà e anche di confusione nell'interesse appunto di Palermo, avendo come obiettivo quello di realizzare la visione che dal 2012 sino ai giorni nostri, ha cambiato l'immagine di Palermo e anche l'economia di questa città che purtroppo in questo momento subisce, come tutta Italia e tutto il mondo, i terribili effetti della pandemia. Ma siamo pronti a ripartire non appena saremo liberati da questo virus.